Grazie a tutti. Sia adorato ogni momento, Gesù mio nel sacramento. Oggi e sempre sia adorato, Gesù mio sacramentato. Sia adorato ogni momento, Gesù mio nel sacramento. Oggi e sempre sia adorato, Gesù mio sacramentato. Sia adorato ogni momento, Gesù mio nel sacramento. Oggi e sempre sia adorato, Gesù mio sacramentato. Glorie al Padre, glorie al Figlio, allo Spirito Divino. Come tu sempre sarai, per l'invenza eternità. O cuore amabilissimo, e caro mio Gesù. Il vostro amor dolcissimo, io voglio e niente più. Vedete, Eucalistia non è cosa di preti, oppure è soltanto qualcosa di cultuale. Cioè, quello che noi dobbiamo fare, già lo sappiamo, è scritto nel messale, è scritto nel lezionario. Ma la nostra vita deve essere eucalistica. Adeletti, anche la messa a cui noi partecipiamo, possiamo fare i migliori canti, usare tutti gli strumenti che vogliamo. Ma sarà una messa a metà, quando nell'offertorio, i sacerdoti al nome di tutti, dice, Benedetto, sei tu Signore, Dio del universo. Dalla tua bontà abbiamo, dice già il Brutale, ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna, frutto della terra e del nostro lavoro. Allora, il lavoro quotidiano, quello che tu fai ogni giorno, le tue fatiche, il tuo lavoro, forse anche il lavoro che non c'è. Però c'è il tuo sacrificio, c'è il tuo pianto, c'è forse anche la tua disperazione. E poi quant'altro tu puoi fare durante la giornata, tante volte non ci pensiamo. Tutto quello che tu fai è il tuo lavoro, che serve a costituire quel pane, perché quel pane, celebrato nell'eucalistia, possa diventare il corpo del Signore. Allora vedete anche come tutta la nostra vita cambia, diventa eucalistica, acquista un senso. Perché tante volte poi nell'arco della giornata, quello che ti costa, non lo scarti. Ma anzi, sei geloso, perché sai che forse proprio quello che tu più non vuoi, quello che forse ti sta pesando, quello contribuisce a formare quel pane per poter celebrare la tua eucalistia. Allora quando tu partecipi alla messa, sai che lì quell'ostia è frutto davvero del tuo lavoro. E come tu ti sei offerto per l'eucalistia, l'eucalistia diventa tono e cibo per te, per poter continuare la tua vita quotidiana. Grazie. 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 A me nel santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione, tu che vivi e regni dei secoli, dei secoli. Amen. 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 Amen.